Riparte la Toscana del vino con anteprime di Toscana e By Wine ed è un segnale importante per la ripresa generale anche se la pandemia è ancora presente. Questa edizione 2021 delle anteprime di Toscana vede sulla scena i consorzi di tutela che presentano le nuove annate dei vini di Toscana alla stampa specializzata di settore. Si parte venerdì 14 maggio alla Fortezza d'Abbasso con 12 consorzi tra i più promettenti della Toscana enologica e 400 etichette provenienti da 170 aziende. Insomma è un'edizione che pur con tutte le limitazioni, pur con tutte le difficoltà però si sta dimostrando un'edizione che può avere successo e può dare una mano alla ripartenza di un mondo che per la Toscana è un mondo straordinariamente importante sotto il profilo della qualità, dell'occupazione, dei punti di pil, del turismo che il mondo enogastronomico riesce a muovere. Quello del vino è un settore decisivo nell'economia toscana, qualche numero, 60.000 ettari di viti, 13.000 aziende impegnate nel settore e vini di altissima qualità. Nei 2020 sono stati prodotti 2,2 milioni di ettolitri di vino di cui il 67% è rappresentato da etichette DOP. Riparte anche By Wine, la più importante vetrina B2B dei vini a denominazione della Toscana, innovativa alla modalità di svolgimento per l'edizione 2021, l'undicesima. Questa è una scelta coraggiosa quindi di aver scelto una formula totalmente innovativa in digitale. Noi abbiamo spedito in 30 paesi del mondo a 130 buyers i campioni di vino di 150 imprese toscane. Quindi il vino come ambasciatore di toscanità nel mondo, il vino diventa in questo caso anche un grande strumento di marketing perché le camere di commercio italiane all'estero, oltre alle degustazioni in loco con i buyers, faranno anche un'azione promozionale in questi paesi. Quindi una formula veramente innovativa. Per svolgere in sicurezza l'evento alla fortezza da basso vi si potrà accedere solo presentando i risultati di un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore oppure sarà possibile effettuare un tampone rapido antigenico all'ingresso.